Sicuramente il senso di libertà che mi dà. L'estrema sfida che c'è nel cambiare tre discipline differenti. Amo parecchio stare all'aria aperta, nuotare, andare in bicicletta, ecco la carrozzina olimpica. Di questo sport amo tutto, forse l'unica cosa che non amo è nuotare quando il mare è molto mosso. Uno dei tanti brani della mia playlist è Don't Stop Me Now, dei Queen. Un brano della mia playlist che sto ascoltando molto ultimamente è Imparare dal vento di Tiro Mancino. Un brano della mia playlist pre-gara è Ohio Turnpike di Jeff Rosenstock. Serie TV non le seguo tanto ma di solito guardo di continuo un film che mi attrae tanto, Il Gladiatore. Serie TV preferita, La Casa di Carta. Serie TV preferita, True Detective.